E bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di GoRikeZero Oggi siamo tornati per spacchettare calciatori, figurine e panini Prima di tutto vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina E se volete fate iscritto ricambio sotto nei commenti Sì, voi vi iscrivete al mio canale e io mi iscrivo al vostro Oggi andremo a spacchettare 5 pacchettini di figurine Che io ho già aperto però, aspettate scusatemi che metto a fuoco Che io ho già aperto però vi farò vedere le figurine che ho trovato Partiamo subito con Powell Dawindowsk Scusate se sbaglio i nomi Ruggero Gaston Brugman Simone Cagliare Gianluca Mancini Luca Tremolada Figurina Pordenone Sigmund Zervuski Matò Gianlu Jacopo Pertaccone Sergio Milinkovic Sábi, bellissima questa figurina Igor Simone Verdi Luca Rossettini Figurina Pisa Pedro Pedro Figurina Pescara Che questa bellissima Leonardo Bonucci Gianluca Mancini Figurina Lluve Stabia Figurina Trapani Alberto Cerri Alberto Cerri Bellissima anche questa Scudetto Livorno Scudetto Livorno Perù e Perugia Figurina Crotone Figurina Atalanta Sergio Flockeri Sergio Flockeri Sigmund Zervuski Figurina Cittadella Le più belle sono Secondo me Sono questa qua Del Milan Gianluigi Donnarumma Questa qua Con Leonardo Bonucci Gianluca Mancini Sergio Mininkovic Sábi E le scudette Quello Livorno Perugia E niente Siamo arrivati a terminare il video E niente Ciao Iscrivetevi al canale Attovate la campanellina E lasciate un bel like Ciao